Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Salerno ha sottoposto a sequestro oltre 17 chili di fuochi d'artificio non a norma destinati alla vendita illegale. Visto l'approssimarsi delle festività natalizie, sono stati infatti intensificati i controlli delle fiamme gialle rivolti anche al contrasto della commercializzazione illecita di materiale esplodente, che pur in piena emergenza Covid iniziano comunque a fare la loro comparsa in giro per le strade o sottobanco in alcuni negozi. Dopo i primi rilievi info-investigativi, i sospetti dei finanzieri della compagnia di Nocerea Inferiore sono caduti su un 57enne di Angri, già arrestato nel 98 per analoghe fatti specie di reato. Nel corso di un intervento presso il suo appartamento i militari hanno così scoperto oltre un centinaio di ordigni artigianali, track e bombe carta di diverse dimensioni, le tipologie più in voga tra gli appassionati del settore. La presenza di un mezzo migliaio di mice, anch'esse rigorosamente homemade, ha fornito agli investigatori la prova che il pregiudicato li fabbricava personalmente in quella che può dirsi una vera e propria officina pirotecnica. Ben occultati su un armadio della camera da letto, i botti illegali, privi di requisiti minimi di sicurezza e di qualsivoglia autorizzazione per la detenzione, esponevano ad un costante ed elevato rischio di esplosione anche le abitazioni adiacenti. Sono stati perciò sottoposti a sequestro tutti i prodotti irregolari rinvenuti per un totale di 115 manufatti esplodenti e 540 mice. Il responsabile denunciato alla Procura della Repubblica per le gravi violazioni alle norme in materia di pubblica sicurezza rischia adesso fino a tre anni di reclusione, oltre ad una multa che può raggiungere i 100.000 euro. Dopo la convalida del provvedimento cautelare, la merce è stata immediatamente trasferita presso un deposito autorizzato in attesa della perizia tecnica degli artificieri della Questura di Salerno che ne determinerà l'indice di pericolosità.